Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, sono Dottor Mirax e siamo tornati con il nostro, tra virgolette sempre inteso, Road to Advanced Warfare. Questa volta analizziamo le score streak, quindi le ricompense uccisioni. Premetto soltanto una cosa, nella demo, nella prova che c'era a Colonia e Gamescom c'erano soltanto queste 7 ricompense che vedete in questo istante. Quindi 7 ricompense uccisioni che sicuramente non sono solo queste perché sono veramente molto poche, quindi suppongo che molto probabilmente ce ne saranno delle 9. Comunque sappiamo che il gioco era ancora in sviluppo, quindi ovviamente da agosto fino a novembre c'è veramente tanto tempo, quindi sicuramente ne verranno aggiunte altre. Vedete che sono 7, però possiamo già capire una cosa di queste 7. Ognuna vedrete che andremo a fare l'analisi di 3 elementi aggiuntivi, questa in base alla modalità che otterrete attraverso le ricompense tramite la quantità di tempo che giocherete. Quindi tramite appunto queste ricompense cosa otterrete? Otterrete 3 livelli diversi di ricompensa uccisione, quindi magari la ricompensa con un livello un pochino più basso, poi quella da soldato e quella da elite. Quindi ognuna avrà delle caratteristiche particolari e ognuna di queste caratteristiche permetterà di aggiungere dei punti in più o eventualmente dei punti in meno alla vostra scorsa. Quindi magari per esempio avere un aumento degli asset vi chiederà ad esempio invece di fare 400 vi chiederà ad esempio 450 punti per UAV. Comunque non perdiamoci in chiacchiera, andiamo subito a vedere la prima ricompensa uccisione che vediamo qui, quindi il UAV. Dunque quando avrete la possibilità di poter personalizzare il modulo UAV con questi 3 elementi che vedete in basso, vedete che ognuno vi richiederà un costo maggiore, quindi ad esempio per 15 punti in più di assist avrete bisogno di richiedere 150 punti in più per la vostra kick streak. Quindi comunque ecco qui per esempio Extra Assist Points vi dà 15 punti in più per ogni kick che effettuerete e costerà 150 punti. Ad esempio poi la Threat Detection che mostra i nemici per 10 secondi subito dopo l'attivazione costa di più, quindi costa 300 e quindi permetterà però di vedere ad esempio i nemici con molta molto più precisione rispetto a un UAV normale. Oppure ad esempio l'ultima streak, l'ultimo elemento della streak che è supporto, che i punti che avete guadagnato nella streak con questa ricompensa continuano anche dopo la morte, quindi molto buono se magari vorreste fare una sorta di ricompensa e supporto un po' come successe anche sui capitoli precedenti degli altri code. Passiamo poi successivamente all'Orbital Care Package, quindi l'Orbital Care Package ovviamente tipo un care package normalissimo, un approvvigionamento, contiene una score streak casuale e può essere ad esempio la map streak, per esempio lo tsunami, adesso non so se sia una map streak, però comunque per esempio mi viene in mente lo tsunami del video di San Francisco che abbiamo visto nel reveal e che già avevamo visto nella sessione multiplayer presentata per Call of Duty Advanced Warfare. Quindi l'Orbital Care Package richiede 500 punti per poter essere sbloccato. Anche qui come per il UAV, per tutte le ricompense che vedremo adesso abbiamo questi tre livelli, abbiamo tre elementi aggiuntivi. Per esempio il double tap costa 200 e permette di modificare il contenuto della scatola, diciamo così, dell'approvvigionamento. Quindi potrete effettuare un'altra scelta nel caso in cui la prima scelta non vi aggradi particolarmente. La seconda possibilità è Better Odds, quindi che permette di incrementare la possibilità di ottenere streak migliori, quindi magari quelli che richiedono un pochino più di tempo se vorreste fare giocando normalmente da poter raggiungere. L'unica cosa è che il costo è molto alto perché vi costerà in questo caso 500 punti come vedete qui nella descrizione dell'arma. E ovviamente anche qui c'è l'elemento support, quindi la possibilità di poter trasformare la ricompensa che vediamo in questo caso in una streak di supporto. Quindi anche dopo la morte potrete mantenere la ricompensa per l'Orbital Care Package. Quindi costa parecchio perché costa 600 e richiede, devo dire, un costo abbastanza elevato. Poi passiamo alla torretta robot remota, quindi quella a controllo remoto. In questo caso abbiamo quattro possibilità di personalizzazione. Quindi la possibilità di utilizzare la rocket turret, quindi al posto dei proiettili o comunque degli elementi che spara la canna rotante della torretta, ci sono i missili, costerà 100 in questo caso. Poi abbiamo l'energia diretta, quindi in questo caso con l'energia diretta cosa può fare di più la nostra torretta? Con l'energia diretta la nostra torretta può sparare un raggio laser controllato. Ovviamente sostituisce sia la torretta rocket, quindi di razzi, che quella di proiettili. Poi abbiamo un altro perk che è ripable, quindi possibilità di poter staccare la torretta e portarsela dietro direttamente sul campo di battaglia. E infine sentry. La torretta sentry è una torretta che non è controllata in maniera remota dal giocatore, ma è come se fosse una torretta robot classica che si muove automaticamente e automaticamente spara ai nemici. Passiamo poi alla terza, scusatemi, alla quarta ricompensa che è l'XS1 Vulcan, che ovviamente dura molto poco il Vulcan perché avete visto che nei vari gameplay presentati su YouTube, in giro, comunque dura molto molto poco il Vulcan. Quindi cosa consiste? In un fascio di energia, dovrebbe essere in teoria laser da quel che si vede perché c'è un po' di colore rosso, però comunque una fascio di energia molto potente che dallo spazio, dall'alto, va direttamente sul campo di battaglia. Già di per sé la ricompensa costa 600, quindi se mettiamo, ci volessero 100 kill per, 100 punti per ogni kill saremmo a 6 kill. Comunque abbastanza, abbastanza, cioè non troppo elevato, abbastanza fattibile. Che cosa poter dire degli elementi aggiuntivi per questa ricompensa? Il primo è Overcharge, quindi che aumenta l'ampiezza del fascio di energia che buttiamo, tra virgolette, diciamo, sulla mappa. Poi abbiamo Light Show e costa 100, quindi 200 invece per Light Show e che permette di inserire, invece di un'unica scarica di energia, tre scariche roteanti di laser. E infine l'ultimo Extra Burst che costa 300 e che permetterà di incrementare di un'altra volta, quindi permette di avere due giri, praticamente, di fascio di energia dell'XS1 Vulcan, quindi molto molto comodo. Adesso abbiamo un elicottero, a quanto pare, un Warbird, che ovviamente è un elicottero che viene pilotato in maniera remota e serve ovviamente per gli attacchi aerei. Che cosa ha di aggiuntivo questo elicottero? Ovviamente prima cosa i rockets, quindi si possono inserire come un'arma alternativa alla mitragliatrice i missili. Seconda cosa che possiamo aggiungere, Aggressors, quindi che permette di identificare un po' quel quadratino, tipo il mirino che riconosce i nemici che si mette ad esempio sui mitraglioni, su Bracos 2 per capirci. Quindi permette di riconoscere i nemici e marchiarli con un costo di, ovviamente, 800 punti in più. E infine abbiamo Warbird Wingman, quindi permette di avere un compagno che possa joinare, praticamente, nella nostra sessione di attacco con questo elicottero e quindi permette anche a lui di condividere i punti che noi facciamo. Quindi vengono aggiunti più player alla stessa ricompensa, che è molto interessante, non c'erano alcun tipo di code, però magari anche per coloro che non hanno mai provato una ricompensa o che sono magari scarsi, tra virgolette, per non riuscire ad arrivare a una ricompensa del genere, possono in questo caso provare. Ovviamente se la ricompensa dispone di quella caratteristica, quindi della possibilità che un altro possa entrare. Poi abbiamo l'XS1 Goliath, quindi che è una armatura esterna con armatura, ovviamente intese armi pesanti, che in questo caso sono mitragliatrici, vedete anche dal simbolino della ricompensa uccisione, ed è pilotata manualmente. Quindi siamo noi che entriamo direttamente nell'armatura e la pilotiamo direttamente con il nostro pad. Ovviamente anche per questa c'è possibilità di personalizzarla su tre livelli. La prima è Recon, quindi possibilità di poter inserire un Exoping, se vi ricordate. Exoping è la possibilità di poter vedere i nemici per un tempo limitato nella zona della mappa intorno a noi, quindi molto molto comodo e in questo avrà il costo di 100 punti in più. Il secondo elemento che è possibile aggiungere è Trophy, quindi si può inserire un sistema Trophy mobile direttamente sulla armatura, quindi per ripararsi magari mentre lo utilizziamo dai missili o dagli esplosivi nemici. E la terza caratteristica è Homing Rockets, quindi si può aggiungere un'arma che spara missili guidati automaticamente tramite il riconoscimento del bersaglio, quindi ci risparmia un pochino il tempo e la fatica di star lì a cercare i nemici e poterli così uccidere. Infine, l'ultima di quelle presentate a Colonia, ma che sicuramente credo non sia l'ultima per il gioco completo, è il Paladin. Quindi, un sistema che è composto da più armi e che si trova direttamente in orbita, possiamo dire montati, tra virgolette, su una navicella, possiamo dire così. Quindi c'è proprio questa stazione orbitale che comprende più armamenti utilizzabili manualmente dal giocatore. Anche qui stessa cosa, tre livelli. Abbiamo i razzi guidati automaticamente con bersaglio laser, quindi c'è una torretta per laser guidati. Abbiamo il cannone da 105 mm, quindi possibilità di poter inserire questa ammitaillatrice rotante, a quanto pare, da 105 mm. E stessa cosa che abbiamo visto anche per i Warbird Wingman, quindi possibilità di poter permettere a un altro giocatore di partecipare alla nostra strida, diciamo, partecipare, tra virgolette, e condividere così punti, ricompense e quant'altro. Detto questo è tutto, abbiamo fatto un video un pochino più breve. Nel prossimo video dovremo trattare il wildcard stile Warcraft 2 presenti nel gioco. Quindi il mio canale è come sempre in descrizione, vi ringrazio se vi andrà ad effettuare l'iscrizione. Ovviamente anche la box dei commenti è per voi, per commentare queste ricompense, magari immaginare quali siano quelle nuove che verranno aggiunte. Ed è tutto da vostro Dr. Mirax, e ci vediamo con un prossimo video qui sul canale di Spazio Games. Ciao a tutti! Ciao a tutti!